Siamo qui oggi perché Isagro vuole presentare questo brand che caratterizza un processo di ricerca, di formulati che sono unici. Isagro è stata la prima società anni fa a lanciare il Tricoderma come agrofarmaco sul mercato italiano, forse in tempi addirittura molto precoci, nel senso che la risposta del mercato non era ancora pronta. Oggi invece per tutte le situazioni che conosciamo, problematiche fitosanitarie impellenti, difesa chimica con sempre meno principi attivi, apertura soprattutto dell'Europa verso questi prodotti di biocontrollo, siamo arrivati a un punto dove su alcune patologie, su alcuni funghi, questo impiego non diventa più un sogno lasciato solo ad alcuni sognatori, ma arriva nella pratica per tutti gli agricoltori perché cominciamo ad ottenere risposte importanti. La volontà è stata proprio quella di invitare i principali operatori dell'area centro-nord per spiegare finalmente anche da un punto di vista scientifico e biologico i meccanismi di azione, i modi di azione, come impiegare in questo caso come al biocontrollo il nostro Tricoderma nelle diverse patologie e nei diversi problemi che ci sono. Tricoderma by Isagro è la storia di due ceppi brevettati da Isagro, uno dell'Università di Pisa, il professor Vannacci, l'altro dell'Università di Sassari che sono due ceppi con alcune differenti che caratterizzano la produzione di tutti i formulati, per questo il marchio Isagro, Tricoderma by Isagro. Sono per il mercato italiano due agrofarmaci, il radixol dedicato soprattutto per le culture orticole e per gli impieghi alle culture frutticole contro armillaria e in futuro speriamo anche nel pero per la diffusione delle infezioni della maculatura bruna e il prodotto invece specificatamente studiato per la vita che è l'Ecoforce Life con una novità che verrà presentata proprio oggi. Isagro nel 2001 ha creato il Tricoderma e ha voluto proprio dai suoi laboratori di ricerca di Novara a creare un agrofarmaco con tutte le particolarità di una molecola chimica, con tutti gli studi, con tutta la ricerca adeguata per questo prodotto. Nel catalogo Isagro abbiamo sia la linea agrofarmaci che la linea biostimolanti con i diversi brand, ecco Fox Life, Radix Soil e BioCross. Il Tricoderma by Isagro rispetto agli altri, prima cosa è italiano, siamo made in Italy rispetto a tanti altri. La seconda cosa è che il nostro dura molto di più nel tempo, ha una shelf life molto più lunga per le caratteristiche che comunque oggi faremo vedere. Come responsabile Isagro Italia da questo evento mi aspetto un rilancio del Tricoderma e far capire al mercato la bontà dei nostri prodotti e vedendo il futuro nel settore del biocontrollo. Noi abbiamo fatto questo evento in Ducati perché la Ducati in questo momento rappresenta la tecnologia, il futuro e veramente vogliamo dare quell'aspetto di velocità, di creatività che l'Italia deve dare.